Buonasera a tutte e a tutti e benvenuti a questo nuovo incontro gratuito di Formazione su misura, l'iniziativa congiunta di Mondadori Education e Rizzori Education per la formazione degli insegnanti. Oggi durante questa tavola rotonda affronteremo insieme un argomento che definirei un po' un evergreen del mondo scolastico, parleremo cioè di didattica digitale e lo faremo ponendo particolare attenzione a quelle strategie e metodologie innovative che proprio grazie all'utilizzo del digitale sono in grado di promuovere in classe, a scuola un app, un apprendimento di tipo significativo e cooperativo, andando proprio a lavorare sulla motivazione, sull'impegno, l'inclusione, ma anche appunto sull'acquisizione di competenze disciplinari, interdisciplinari e fino anche appunto trasversali. Durante l'incontro avremo modo di attenzionare nello specifico due distinti approcci didattici, ovvero quello del digital storytelling, l'arte di narrare attraverso appunto l'utilizzo di strumenti digitali e quello invece dell'escape room fondato invece sulla sulla logica e sulla capacità risolutiva. Naturalmente non affronteremo questi argomenti da soli, ma lo faremo appunto insieme agli ospiti che abbiamo invitato appositamente per discutere di questi, insomma per avviare questo dibattito, questa tavola rotonda e discutere di questi temi. Vado subito quindi a presentarvi i nostri ospiti, sono tre, il primo è Gino Roncaglia che non ha sicuramente bisogno delle mie presentazioni, ma facciamo lo stesso. Gino è filosofo, saggista, professore associato all'Università degli Studi Roma 3, autore di numerose pubblicazioni su apprendimento, formazione e cultura nell'era del digitale, autore di diverse trasmissioni radiofoniche televisive sui nuovi mezzi di comunicazione. Consulente scientifico di rai cultura e autore e membro del comitato scientifico di formazione su misura. Ciao Gino e bentornato su formazione su misura appunto. Salve, bentrovati e bentrovati. Il secondo ospite che abbiamo il piacere di avere con noi è Alessandro Greco, dirigente scolastico presso l'istituto comprensivo terzo di Milazzo, formatore e relatore in corsi, seminari e workshop sui temi della progettazione e valutazione per competenze, della didattica digitale e della media education, è stato membro del comitato tecnico scientifico per la formazione degli animatori digitali della Sicilia, media educator e socio del MED, è autore di articoli e interventi su tematiche scolastiche e ha partecipato a progetti nazionali sul curriculum di cittadinanza digitale. Benvenuto anche a te Alessandro. Salve, salve a tutti. Poi abbiamo Marcello Caffiero che è il terzo ospite appunto di questa serata, docente di lingua inglese e animatore digitale presso il polo tecnico del Mediterraneo Aldomoro di Santa Cesarea Terme, collabora con Instructional Technology Specialist con varie istituzioni scolastiche CFP per la formazione dei docenti dei formatori, esperto in progettazione e realizzazione di digital educational resources, supporto metodologico e gestione di strumenti collaborativi. Buonasera anche a te Marcello e benvenuto. Salve a tutte e a tutti. Adesso dopo le consuete presentazioni lascio invece la parola a Beatrice Cristalli, coordinatrice di formazione su misura, coordinatrice didattica di formazione su misura per un approfondimento diciamo degli argomenti che andremo ad affrontare oggi per avviare il dibattito appunto con i nostri ospiti. Prego Beatrice. Grazie Dario, grazie ai nostri ospiti e tutte le persone che si stanno collegando. Oggi come diceva Dario parleremo di didattica digitale e questo è un tema che rientra negli obiettivi più importanti della Scuola del Futuro che intende potenziare le competenze digitali di apprendimento e insegnamento attraverso percorsi innovativi. Si parla infatti di una vera e propria transizione digitale e a ricordarcelo non è solo il documento del PNRR ma anche il DigComp e Edu che è il quadro di riferimento europeo che permette a docenti e studenti di verificare il proprio livello di competenza pedagogica digitale e di svilupparla secondo un omogeneo modello di contenuti e livelli di acquisizione. Ma cosa significa progettare didatticamente oggi con il digital storytelling, la gamification e l'escape room e soprattutto perché è importante sviluppare negli studenti le competenze di media e data literacy, di comunicazione e di creazione di contenuti digitali. In questa tavola rotonda, in questa diretta, proveremo insieme ai nostri ospiti a rispondere a queste domande e non solo. Prima di iniziare con le domande, qualche informazione tecnica. Ricordo a chi ci sta guardando che l'evento è in diretta, che l'attestato sarà disponibile nei prossimi giorni sul sito alla pagina Attestati e per chi volesse accedere allo streaming indifferita, l'attestato sarà disponibile solo ai partecipanti che avranno effettuato l'accesso dalla mail di conferma entro la mezzanotte di oggi. Vi ricordo inoltre che il video resterà disponibile sul nostro canale ufficiale YouTube di formazione su misura e, non meno importante, nel corso di questa diretta potrete rivolgere domande e curiosità ai nostri ospiti attraverso la pagina tua-domanda.it indicando il codice evento 7681. Partiamo con le domande. La prima la rivolgo a Gino, benvenuto e grazie per essere con noi. Allora, oggi quando parliamo di didattica digitale e soprattutto di alfabetizzazione digitale domina ancora parecchia confusione. Infatti non è un caso che negli ultimi anni si è insistito tanto sull'aggettivo integrata per guidare i docenti verso una formazione metodologica e non solo tecnologica dell'ecosistema digitale, che non va considerato come un accessorio, ma va contestualizzato. E quindi ti chiedo, a cosa bisogna fare attenzione quando progettiamo percorsi didattici digitali? A quali bisogni formativi bisogna rispondere? Soprattutto quali aspetti del linguaggio digitale dobbiamo conoscere, soprattutto in rapporto all'uso che ne fanno le nuove adolescenti? Allora io partirei forse da una considerazione che riguarda proprio la terminologia che usiamo in questi casi. Nell'ultimo periodo in effetti si è insistito molto su questa idea di didattica digitale integrata per un motivo forse anche un po' contingente, cioè dopo la pandemia, durante la pandemia c'è stata per certi versi un'indigestione di quella che è stata normalmente chiamata didattica a distanza, didattica digitale, e che in realtà è stata qualcosa di abbastanza diverso dall'uso che sarebbe raccomandabile e preferibile in situazioni normali del digitale come strumento, come insieme complesso di strumenti, di metodologie in ambito didattico. Cioè quella che abbiamo fatto durante i periodi della pandemia, in particolare i periodi del lockdown, è stata in realtà una didattica a distanza di emergenza con diverse caratteristiche emergenziali. È stato inevitabile, è stato uno strumento che comunque ha consentito di mantenere un dialogo didattico in una situazione in cui altrimenti sarebbe stato molto molto difficile farlo, però non è stata certo una situazione in cui si potesse lavorare in maniera ideale con gli strumenti del digitale. Nel momento in cui la situazione, auspicabilmente, speriamo, lentamente torna alla normalità, si è cercato, diciamo, di riverniciare un pochino la didattica digitale, l'idea di uso di strumenti di rete, con questo termine integrata che in realtà dice una cosa abbastanza ovvia, cioè che la didattica che utilizza strumenti di rete, strumenti digitali, è inevitabilmente connessa anche con il lavoro che si fa concretamente, fisicamente, nelle scuole. Ci possono essere delle situazioni molto particolari di didattica unicamente a distanza, ma per quello che riguarda la formazione e l'apprendimento nel mondo della scuola, la normalità è l'integrazione e quindi l'integrazione di strumenti digitali nel lavoro di didattica e di apprendimento di tutti i giorni. Questa integrazione è quindi del tutto naturale e non stupisce neanche da altri punti di vista. La didattica ha sempre utilizzato tecnologie, l'apprendimento ha sempre utilizzato tecnologie, il libro, la lavagna, la stessa organizzazione delle classi, oggi anche gli strumenti di rete sono tutte tecnologie e sono tecnologie che sono anche, hanno un riflesso sull'organizzazione delle attività di insegnamento e di apprendimento. Quindi sono anche tecnologie dell'apprendimento. Questa situazione dovrebbe essere vista in maniera molto laica e è ovvio che nel momento in cui il nostro ecosistema della comunicazione comprende come componente molto importante anche strumenti di comunicazione digitali e questo è vero in particolare per le nostre studentesse, per i nostri studenti, ma è vero anche per noi ormai. Il discorso che si faceva, che si fa a volte ancora, sì, le studentesse e gli studenti vivono in un mondo digitale che è diverso dal nostro. Non è mica più tanto vero, anche noi siamo sempre con lo smartphone in mano, con una miriade di strumenti. Quindi l'ecosistema della comunicazione in cui viviamo utilizza abbondantemente strumenti digitali e di rete. La formazione, l'apprendimento sono attività che presuppongono il lavoro del lavoro comunicativo, presuppongono comunicazione. È normale che anche queste attività si svolgano utilizzando strumenti digitali e sarebbe anzi molto strano e innaturale se improvvisamente entrando a scuola noi come docenti, le nostre studentesse, i nostri studenti, come dire, saltassero dal nostro mondo in cui il digitale c'è, ha un ruolo importante, ha una specie di mondo ottocentesco in cui non esiste. È chiaro che c'è ed è naturale, normale cercare di utilizzarlo al meglio. Quello che dobbiamo fare però è cercare appunto di utilizzarlo con consapevolezze strumentali, metodologiche, cioè con competenza. Questa competenza non vuol dire che ciascuno si deve trasformare necessariamente in una specie di guru informatico, vuol dire che una serie di strumenti, una serie di metodologie, è bene conoscerle perché migliorano la qualità del nostro insegnamento e dell'apprendimento dall'altro lato. Quindi è una, qualcosa da guardare io credo in maniera abbastanza laica, mentre è molto importante cercare di identificare bene quali sono gli obiettivi, quali sono gli obiettivi formativi. Poi su questo torneremo magari più avanti, ma la mia convinzione per esempio è che un obiettivo formativo trasversale importantissimo oggi per tutte le discipline, in tutti i vari ordini e gradi scolastici, sia quello di cercare di favorire lo sviluppo delle competenze legate al lavoro con informazione strutturata, complessa. Quindi favorire competenze di complessità anche nell'ecosistema digitale, che di per sé è un ecosistema, poi magari approfondiremo, molto granulare, molto frammentato per certi versi. allora questo ci indirizza anche verso certi tipi di uso degli strumenti e del digitale, cioè tipi di uso in cui si favorisca la costruzione di contenuti che possano essere contenuti un po' più elaborati, un po' più complessi, in cui si favorisca il lavoro collaborativo, mentre noi quotidianamente abbiamo un uso di produzione artigianale di microcontenuti, si favorisca un lavoro collaborativo che permette di costruire contenuti di complessità e di qualità un po' maggiore. E gli strumenti che possiamo utilizzare, tra cui strumenti che sono legati al digital storytelling, alla gamification, andrebbero sempre visti in quest'ottica. In che modo questo strumento può migliorare la mia capacità di lavorare anche in forme un po' più sofisticate, complesse, articolate, con contenuti di migliore qualità, con contenuti costruiti meglio. Dobbiamo guardare al digitale come a uno strumento per costruire qualità. E questo non è sempre facile, anche perché non sempre gli strumenti digitali che abbiamo a disposizione sono orientati in questo senso, verso la qualità, l'articolazione, la complessità, ma credo che sia uno degli aspetti più importanti di un buon lavoro fatto con le armi del digitale. Grazie Gino, mi sembra un messaggio importantissimo quello di appunto immaginare il digitale come strumento proprio per garantire la qualità, la qualità dell'insegnamento, dell'apprendimento, e spesso anche l'utilizzo di appunto strumenti digitali sono anche in grado un po' di sovvertire il tradizionale processo di apprendimento dello studente, cioè attraverso anche l'utilizzo di metodologie didattiche innovative, l'è citata poco fa, ma l'abbiamo anche citata all'inizio di questo evento, il digital storytelling, oppure ancora la gamification, possiamo anche ripensare il nostro metodo di insegnamento, ripensare anche il rapporto che si instaura appunto tra docente e alunno rispetto alla costruzione dei contenuti, come vengono veicolati e conseguentemente appresi dai nostri studenti. E passando proprio ad approfondire un po' la questione, l'aspetto del digital storytelling, Alessandro, volevo porre a te la mia seconda domanda, questa seconda domanda, perché appunto se pensiamo a una metodologia come il digital storytelling ci viene in mente che sicuramente un punto di forza di questa metodologia è quello appunto di offrire diciamo un accesso più semplice semplice a concetti che sono magari astratti, complessi, intanto volevo chiederti appunto se anche per te è così, se anche tu hai questa sensazione e se possiamo parlare quindi proprio per questo motivo di un uso creativo della tecnologia per facilitare proprio i processi di apprendimento e in che modo poi appunto avviene tutto questo, se puoi anche farci qualche esempio o dirci insomma darci qualche qualche suggerimento. Sì, quello che diceva Gino Roncaglia mi trova assolutamente concorde, la questione post-pandemica si è posta in Italia forse un po' troppo legata a schieramenti, ma noi siamo un popolo di Welfi e Ghibellini quindi anche su queste tematiche ci schieriamo molto spesso su posizioni, ci arrocchiamo su posizioni a volte troppo rigide e anche nelle ultime settimane abbiamo sentito qualche commento da diverse parti del mondo della scuola su rigidità rispetto all'inserimento del digitale per esempio nell'utilizzo dello smartphone in classe, nel divieto dell'utilizzo di questo accessorio ormai fa parte della vita comune. Allora io penso che guardare la prospettiva del digital storytelling ma più in generale della creatività digitale ci permette di bypassare queste rigidità e di affrontare la tematica da un altro punto di vista, cioè mettere insieme da un lato la creatività che è ricchezza di espressività, che è ricchezza di potenzialità dei ragazzi e che non è tanto intesa come il talento, il talento l'estro creativo di pochi, ma è proprio collegata a quello che Gino prima diceva parlando della collaboratività, ecco la creatività è collaboratività, la creatività è la possibilità data ai ragazzi di lavorare, costruire il proprio apprendimento insieme agli insegnanti in maniera originale, in maniera nuova. L'altro aspetto interessante della creatività è il fatto che inclusivamente è il fatto che inclusiva, cioè facilita diversi stili di apprendimento, diverse modalità di approccio ai contenuti, alle discipline stesse e all'interdisciplinarietà che inevitabilmente nella scuola deve per forza diventare il punto di forza dell'apprendimento, perché un apprendimento settoriale ormai inadeguato di fronte alle sfide che la nostra società che il mondo ci pone. L'altro aspetto secondo me interessante è che la creatività porta i ragazzi più facilmente che le forme tradizionali di apprendimento a un'autoriflessione, quindi all'autovalutazione, c'è la possibilità di autovalutare i propri percorsi, quindi questo penso che sia l'apporto che la creatività da un lato ci dà in questa prospettiva. L'altro apporto è il digitale, creatività digitale perché appunto il digitale ha un potenziatore al suo interno, anzi due grandi potenziatori. Da un lato penso alla multimedialità, cioè la possibilità che la creatività non avvenga esclusivamente attraverso la parola letta o la parola scritta, ma possa avvenire integrando diversi linguaggi, integrando diverse anche sfere sensoriali, quindi ciò che l'udito percepisce, ciò che la vista percepisce, come si intervano con tutto quello che gli studi sull'apprendimento multimediale negli anni hanno dimostrato, di miglioramento dell'apprendimento stesso. Quindi la multimedialità da un lato, l'interattività dall'altro. Cioè un approccio alla creatività digitale spinge lo studente a sentirsi protagonista attivo del percorso che sta facendo, interagisce nella costruzione e interagisce anche nella ipotesi di chi sta, chi leggerà quello che io sto producendo, come lo leggerà, non più una lettura lineare dei contenuti, dei testi, del mio prodotto, ma una intertestualità. Poi permettetemi un altro aspetto importante, così mi ricollego a quello che tu mi chiedevi sul digital storytelling. Non è che lo storytelling nasce con il digitale, è la forma forse più antica di conoscenza e di approccio al mondo. Il bambino ascolta le storie e ascoltando le storie acquisisce una consapevolezza di sé, del mondo, della realtà, della relazione con l'altro. Ma al tempo stesso questa narrazione, questa capacità di ascoltare storie, il desiderio di raccontare, di raccontare e di raccontarsi, nel digitale può avere un grande alleato perché appunto la multimedialità amplifica le possibilità di narrare. Sta di fatto che Joe Lambert quando ha iniziato i primi esperimenti sul digital storytelling ha proprio lavorato sul racconto di sé come strategia per aumentare, migliorare l'apprendimento in contesti didattici. Quindi questo mi sembra, mi sembra, diciamo anche l'approccio praticamente attuabile nella didattica rispetto a quello che Gino Roncaglia diceva, è che è una grande sfida per la scuola, perché la scuola uscendo dalla fase emergenziale deve trovare nuove prospettive, che erano le prospettive che comunque esistevano prima della pandemia, perché prima della pandemia la didattica digitale integrata era abbondantemente affrontata dal punto di vista medioeducativo, dal punto di vista dell'informatica come bene strumentale della scuola, come tecnologia didattica. Grazie Alessandro. Beh, diciamo che già dagli interventi di Gino Alessandro stiamo capendo come utilizzare la didattica digitale non solo possa motivare le studentesse e gli studenti, ma possa aiutare loro a comprendere e lavorare con la complessità. Cioè Alessandro giustamente sottolineava che oggi nel digitale, nell'ecosistema digitale ci sono tanti livelli. E digital storytelling insieme alla gamification si sono consolidati come due strategie funzionali efficaci per promuovere un apprendimento significativo e cooperativo. Vediamo di capire cosa significa. Intanto l'uso dell'escape room, per chi non lo sapesse, sviluppa sia conoscenze disciplinari, ma soprattutto interdisciplinari e competenze trasversali, che sono molto importanti per affrontare quello che è oggi la complessità della nostra contemporaneità. E quindi rivolgo questa domanda a Marcello. Cioè in che modo il gioco, quindi parliamo della gamification, può essere integrato nella progettazione didattica come esperienza di apprendimento? Cosa si portano a casa gli studenti da queste esperienze? Allora, io direi che come primo intervento è il caso di mantenerci sull'ultima parte della domanda, cioè quella di cosa significa oggi il concetto di apprendimento basato sul gioco. Io farei una serie di precisazioni, anche per cercare di risolvere alcune questioni che confondono spesso e rendono questo argomento abbastanza poco chiaro. Innanzitutto vorrei precisare questa cosa. Quando noi parliamo di apprendimento basato sul gioco e come una strategia, una metodologia innovativa, quindi per favorire un apprendimento più efficace, beh qualcuno potrebbe storcere il naso e dire ma noi nella scuola dell'infanzia lavoriamo attraverso il gioco, cioè il gioco è parte integrante di quella che è l'esperienza di apprendimento del bambino. Quindi il bambino impara giocando e gioca per imparare. Questo è vero anche all'interno del percorso di scuola primaria, ma quando noi ci riferiamo proprio al gioco come strategia, metodologia innovativa, probabilmente stiamo facendo riferimento invece a quelli che sono i gradi scolastici della scuola secondaria, soprattutto la scuola secondaria di primo e di secondo grado. Perché? Perché in questo ordine di scuola chiaramente l'apprendimento è diventato un'esperienza che si è sganciata e spesso la vediamo anche in contrasto con quello che è l'esperienza ludica del gioco. Quindi bisogna diciamo riconsiderare il gioco come dimensione che può essere di nuovo recuperata come dimensione che ci può consentire di migliorare il processo di apprendimento e insegnamento. Ovviamente questo è valido anche nelle esperienze formative e nei percorsi post diploma, quindi diciamo possiamo inserirlo in qualsiasi contesto. Un'altra puntualizzazione importante è quella che molto spesso quando noi parliamo di metodologie innovative, come in questo caso apprendimento basato sul gioco, è come se passasse l'idea che vogliamo che l'apprendimento sia tutto incentrato su quella metodologia. Allora, dobbiamo un po' liberarci da questa, come dire, visione un po' assolutizzata, no? Cioè assoluta della metodologia che stiamo proponendo. Allora, la parola d'ordine all'interno della scuola deve essere diversificazione. Cioè quando noi parliamo di apprendimento basato sul gioco, piuttosto che storytelling, digital storytelling, oppure altre strategie didattiche, la flipped classroom, eccetera, eccetera, stiamo solo cercando di proporre delle soluzioni che il docente può in qualche modo ritenere, diciamo, inserire all'interno della sua cassetta degli attrezzi e utilizzare al momento opportuno, nella situazione opportuna. Quindi non dobbiamo considerare queste metodologie come qualcosa che spazza via il resto di quello che facciamo o quello che abbiamo fatto fino ad oggi, ma si va ad integrare e quindi, diciamo, ad essere un tassello, un elemento, uno strumento tra tanti che noi possiamo selezionare. Altro elemento importante, è vero che l'apprendimento basato sul gioco negli ultimi anni si è sviluppato particolarmente, ci sono molte esperienze anche online, molte scuole, molti docenti fanno esperienze di questo tipo, ma non bisogna dimenticare che ancora, ancora ad oggi, le evidenze scientifiche che ci consentono effettivamente di, come dire, comprendere l'impatto che questo tipo di esperienze hanno sull'apprendimento sono ancora, come dire, sono numerose, però non abbiamo delle meta-analisi che ci consentono realmente di avere dei dati empirici e delle evidenze tali da poter parlare di una vera e propria pedagogia del gioco. Per quanto io suggerisco in questa circostanza ai docenti di fare sempre attenzione, seguire quelle che sono poi gli sviluppi della ricerca empirica in ambito educativo, scolastico e di apprendimento, a cominciare dalla ricerca all'interno delle neuroscienze per quanto riguarda il modo in cui il nostro cervello, come dire, reagisce a specifiche situazioni, alla psicologia cognitiva che ci consente di capire anche come la mente, cioè il software, funziona nel momento in cui noi vogliamo lavorare su questioni come l'attenzione, la memoria, eccetera, eccetera, degli studenti. Detto questo, ecco, a questo punto è necessario fare una distinzione fra forme di integrazione del gioco che dobbiamo tenere distinte. Queste due accezioni, queste due modalità sono quello che noi definiamo game-based learning e quello che invece definiamo con il termine di gamification. Ecco, per essere precisi, questi due termini danno, come dire, cioè si riferiscono a due cose ben diverse, distinte. Il game-based learning è sostanzialmente l'idea di prendere un gioco, calarlo all'interno di un contesto di apprendimento e il gioco diventa, diciamo, l'esperienza vera e propria di apprendimento. Quindi gli obiettivi di apprendimento coincidono con gli obiettivi del gioco. Il gioco viene inserito all'interno dell'esperienza scolastica. E qui, come diceva anche Beatrice nella domanda, si colloca, per esempio, l'esperienza dell'escape room come un tipo di educational game che possiamo utilizzare e che, diciamo, ha delle caratteristiche molto interessanti. La seconda, invece, è la gamification, che è tradotta in italiano, diciamo, un termine abbastanza, come dire, è poco piacevole al suono, è quello di ludicizzazione, ecco, se vogliamo tradurlo, o gamification e gamificazione in italiano. La gamificazione non è altro che prendere degli elementi del gioco, delle meccaniche, delle dinamiche del gioco e andarle ad inserire come, diciamo, elemento aggiuntivo, come valore aggiunto ad un'esperienza di apprendimento che, come dire, di per sé non è un'esperienza ludica. Quindi si tratta di integrare elementi del gioco. Come vedete la differenza è sostanziale. Per quanto riguarda gli educational games, l'escape room in particolare, ecco, possiamo dire che queste esperienze non sempre funzionano, non sempre hanno i risultati che noi vorremmo, diciamo, risultano funzionali e, come dire, ci garantiscono qualcosa. Quindi dobbiamo partire dal fatto che potremmo anche, come dire, alla fine avere un risultato negativo da queste esperienze. Sicuramente se noi integriamo in maniera adeguata l'esperienza di gioco all'interno del curriculum e all'interno e, diciamo, con degli obiettivi di apprendimento chiari e attraverso anche una progettazione adeguata, sicuramente abbiamo buone possibilità che questa esperienza risulti positiva. Quindi il docente dovrebbe, in teoria, avere anche delle competenze di game designer, cioè di progettista del gioco, comunque avere esperienza diretta di queste situazioni. Sicuramente è un impegno, diciamo così, è time consuming, per usare un'espressione inglese, cioè richiede molto tempo sia nella fase progettuale e, ovviamente, in base alla complessità del gioco che andiamo a realizzare, anche nella fase di realizzazione stessa del gioco. Però, volendo anche recuperare aspetti di carattere didattico pedagogico dell'apprendimento basato sul gioco, beh, possiamo dire innanzitutto che l'esperienza dell'escape room è un'esperienza che si colloca all'interno di una matrice costruttivista, cioè una matrice in cui lo studente costruisce il proprio sapere la propria conoscenza attraverso l'esperienza di gioco. Quindi si trova all'interno di un apprendimento attivo, cioè laddove lui, in un certo senso, è l'artefice responsabile di quello che va, diciamo, ad acquisire come esperienza anche di conoscenza, di apprendimento. Sicuramente un'esperienza cooperativa, perché le escape room normalmente si conducono con squadre che lavorano, diciamo, e quindi gruppi di lavoro che partecipano al gioco. Si sviluppano molto le competenze, soprattutto trasversali, quelle competenze, quelle soft skills di cui parliamo ormai da anni e che sono all'interno, ovviamente di un quadro di competenze che la scuola deve avere come riferimento essenziale. Parliamo soprattutto delle 4C, cioè della creatività, parliamo del critical thinking, del pensiero critico, della comunicazione, quindi di tutte quelle competenze che oggi sono particolarmente richieste per affrontare, come diceva il professore Roncaglia, quella complessità, quella realtà complessa che noi dobbiamo in qualche modo aiutare gli studenti a poter gestire domani fuori dal contesto scolastico. Fa appello anche ai vari stili di apprendimento, quindi possiamo coinvolgere i ragazzi e dando la possibilità ad ognuno di esprimersi in maniera personale. Per ultimo, ma non diciamo ultimo come importanza, ha anche una dimensione inclusiva questo tipo di esperienza, quindi come vedete può essere associata a tanti aspetti positivi. Una cosa che per esempio ho avuto modo di constatare da alcune ricerche è che per esempio questo tipo di esperienze di apprendimento basato sul gioco sono compatibili e si legano bene per esempio a strategie didattiche come la FIT Classroom. Questo è molto interessante. Sono molto diffuse all'interno delle materie soprattutto scientifiche oggi, nelle STEM, quindi si utilizzano molto nell'ambito dell'apprendimento di argomenti di conoscenze di tipo scientifico e questo per quanto riguarda il game-based learning. Per chiudere, invece, la gamification, che è questo utilizzo di dinamiche o meccaniche di gioco, stiamo parlando per esempio utilizzare una classifica oppure un sistema a punti piuttosto che dei badge, cioè tutti elementi che possiamo recuperare dall'esperienza di gioco e utilizzarli come leva soprattutto motivazionale all'interno dell'esperienza di apprendimento, quindi per motivare gli studenti e come dire aiutarli a trovare quell'interesse, quella partecipazione all'esperienza di apprendimento. Qui per esempio molto utilizzati anche qui da noi sono i quiz gamificati. I quiz gamificati attraverso piattaforme, ormai ce ne sono tante online, per esempio Quizlet oppure Quizzes, piuttosto che Kahoot, sono tutte piattaforme che consentono di realizzare dei test, dei quiz con degli elementi di gamificazione all'interno. Voi capite che il test diventa in questo senso un elemento di feedback immediato che è fondamentale per esempio per quello che riguarda la valutazione di tipo formativo, quindi molto interessante da questo punto di vista. Ultima cosa, i badge. I badge sono un altro elemento a mio avviso molto interessante. Molti colleghi credo che sono qui collegati con noi e conoscono per esempio i badge che vengono assegnati da Google piuttosto che da Apple, piuttosto che Adobe e altre realtà per certificare delle competenze anche digitali da parte dei docenti. Questi badge possono essere costruiti con delle piattaforme tipo Canva, quindi realizzati graficamente dagli stessi studenti, possono essere assegnati attraverso delle piattaforme digitali molto interessanti e possono essere raccolte anche all'interno di un portfolio digitale. Quindi questo costituisce un altro elemento interessante sul quale sarebbe opportuno riflettere. Grazie mille Marcello. Mi viene in mente che spesso queste metodologie, questi strumenti, contenuti innovativi possono incontrare, anzi incontrano diversi ostacoli a scuola ancora purtroppo, specie da parte dei difensori della tradizionalità, un po' i puristi. A questo proposito io volevo riprendere un'espressione che avevi utilizzato tu poco fa Gino, cioè ecosistema digitale molto granulare e frammentato e vorrei appunto citare un passo da una tua intervista in cui affermi appunto che uno dei limiti della scuola del futuro riguarda il pregiudizio che vede granularità e frammentazione come caratteristiche essenziali dell'ecosistema digitale. E aggiungi, questo pregiudizio porta molti tra i difensori della tradizionalità a rifiutare metodi, strumenti e contenuti che sono visti come destinati a produrre una scuola depotenziata, vittima di tecnologie di cui non ha il controllo e che non ha scelto. Ora io ti chiedo Gino, secondo te appunto perché c'è questo pregiudizio e soprattutto perché come sembri suggerire non è fondato? Prima però di rispondere alla domanda ti leggo anche che cosa ha scritto appunto dal pubblico un partecipante perché mi sembra comunque un po' legato almeno tematicamente ci scrivono perché non introdurre l'educazione mediale a scuola e renderla trasversale a ogni disciplina. Ci sono docenti competenti e formati in tal senso quanto dovremo aspettare ancora affinché questo diventi efficace e funzionale. Prego Gino. Allora provo a partire dalla tua domanda sulla questione della granularità e dell'ecosistema digitale perché in effetti c'è un fondamento nell'impressione che l'ecosistema digitale in qualche modo sia estremamente appunto frammentato. Cioè se noi pensiamo, guardiamo alle forme di testualità, alle forme di contenuti che circolano più frequentemente in digitale, dalle mail, le pagine web, i messaggini whatsapp, i messaggi di stato sui social network, anche fuori dall'ambito della testualità, le storie Instagram, TikTok, sicuramente c'è una prevalenza appunto di contenuti che sono brevi, che sono fortemente frammentati e che sono costruiti con strumenti sofisticatissimi per molti versi ma artigianali per molti altri. Questa prevalenza appunto del contenuto generato dagli utenti. E questo è un fatto in questo momento. È un fatto che però, attenzione, non è che dipenda da qualche caratteristica essenziale dell'ecosistema digitale. Noi in digitale possiamo avere un testo breve o un testo lungo, il tweet di 250 caratteri o un romanzo di 400 pagine. Possiamo avere video brevi, il video di la storia da 15 secondi o un film da tre ore. Ormai gli strumenti digitali permettono agevolmente di lavorare anche con contenuti estremamente complessi e permettono anche alcuni strumenti di costruire collaborativamente contenuti complessi. Proprio per questo una delle competenze fondamentali che noi dobbiamo dare è quella del passaggio dalla frammentazione, dalla granularità alla complessità, in un certo senso della riconquista della complessità anche nell'ecosistema digitale che è molto giovane. Questo tipo di competenze sono appunto a mio avviso degli obiettivi formativi prioritari oggi per la scuola. Ripeto, di per sé il digitale è semplicemente un formato di codifica dell'informazione. La complessità, la strutturazione, la qualità dei contenuti dipende in gran parte da noi e qui effettivamente torna a proposito la domanda sulla questione dell'educazione mediale perché una componente importante di una buona formazione alla capacità di lavorare con contenuti informativi, comunicativi, strutturati, complessi, di qualità, articolati, risiede proprio nelle competenze, nel buon uso degli strumenti e dei media. La realtà è che noi spesso parliamo di nativi digitali, un'espressione che si presta a mille equivoci. Non è che noi abbiamo, le nostre studentesse e i nostri studenti oggi sono una strana specie aliena. Anzi, in digitale in genere utilizzano quei cinque, sei, sette strumenti, sempre gli stessi e li utilizzano in maniera tutto sommato in molti casi abbastanza povera. E anche perché non c'è una educazione mediale di qualità. La nostra scuola soffre anche un pochino della tendenza a disciplinarizzare un po' tutto. Siccome la scuola è organizzata, nel nostro caso in Italia, che pure ha aspetti di altissima qualità il nostro sistema formativo, però ha questo limite sicuramente di un'eccessiva compartimentalizzazione in gruppi classe e in barriere disciplinari, in ambiti disciplinari. E quindi tutte le volte che c'è una tematica legata a nuovi media, a come utilizzarli, a nuove tipologie di competenze necessarie, automaticamente pensiamo dobbiamo introdurre una nuova materia. No, il problema non è moltiplicare le materie, il problema è acquisire una capacità di lavoro trasversale su questi temi che riguardano tutte e tutti e anche tutti i diversi ambiti disciplinari. Per questo sarebbe molto importante, è un aspetto su cui io mi batto da tempo, che nelle scuole, in tutte le scuole, ci fossero dei luoghi e io penso alla biblioteca scolastica trasformata da pura stanza dei libri e della lettura, che sono attività importantissime, a una stanza, diciamo, a un ambiente di apprendimento trasversale in cui si può lavorare sugli interessi personali, in cui si può lavorare sulle competenze trasversali, in cui si possono anche un po' rimescolare i gruppi classe, cioè la biblioteca scolastica pensata bene in forma nuova può essere un'iniezione di terzi spazi e terzi tempi rispetto a queste barriere disciplinari e a queste barriere legate a questa eccessiva centralità dei gruppi classe e può essere anche uno dei punti di lavoro su temi come quelli dell'educazione mediale, che sicuramente è un tema estremamente importante. Un'osservazione appunto per chiudere. La questione del passaggio, della riconquista in digitale di competenze di complessità, vuol dire anche affiancare a nuove competenze che ci sono, perché non c'è dubbio che, per esempio, la capacità di saltare in modo veloce da un'informazione all'altra, la capacità di trovare subito qualcosa, magari di bassa qualità, magari non validato, ma di trovare subito un'informazione su qualunque tipo di richiesta o di esigenza informativa. Queste capacità di movimento veloce, ma di superficie, le nuove generazioni ce le hanno ed è una competenza che è preziosa se la sappiamo integrare con quello che invece è ancora in parte da costruire e c'è la capacità anche di lavorare in verticale. Queste competenze di movimento di pattinaggio orizzontale in un orizzonte informativo amplissimo sono utili e preziose se siamo capaci di integrarle con la capacità, quando troviamo l'informazione che interessa, l'informazione da approfondire, con la capacità di fermarsi e di andare anche in profondità, se no passiamo solo il tempo a pattinare sulla superficie. Ecco, queste due cose si devono integrare e mi piace un po' pensare a questa idea di didattica digitale integrata, non soltanto come integrazione di presenza online nelle forme tradizionali, ma anche come integrazione di velocità di movimento orizzontale e capacità di approfondimento verticale. Da questo punto di vista il digital storytelling, come appunto se ci si lavora bene la gamification, danno delle prospettive di costruzione di complessità che sono prospettive importanti, perché per costruire una narrazione, uno storytelling efficace, ci serve costruire contenuti, riflettere sulla relazione di parti diverse della storia, costruire contenuti complessi e il gioco di per sé, nelle sue tante forme è un meccanismo in realtà complesso di apprendimento. Noi diciamo cominciamo a usare giochi nella prima infanzia in tante forme diverse, ma in un certo senso non smettiamo mai di usare giochi, cioè di imparare regole. Io adesso sono qui che parlo a voi e in un certo senso sto giocando a fare il professore. Sono delle meccanismi di competenza, Minsky parlava di frame, di costruzione diciamo di modelli anche relazionali, comportamentali, di competenze, di conoscenze, l'organizzazione di questo insieme di competenze e conoscenze è qualcosa che richiede complessità e il gioco in molti casi è un ottimo strumento per costruire complessità. Non è un caso che alcuni dei giochi digitali che circolano oggi sono estremamente complessi ed è paradossale che noi abbiamo a volte studentessi o studenti molto capaci di lavorare in quel tipo di complessità e che poi quando si trovano davanti ad altre tipologie di contenuti complessi invece sono completamente perduti. Dobbiamo riconquistare queste competenze e estenderle. Grazie Gino, il messaggio è arrivato forte e chiaro, stavo leggendo anche i commenti dei docenti nella nostra chat di YouTube, quindi grazie. E a proposito di spazio, di frame, di complessità, negli ultimi anni in riferimento ai percorsi di digital storytelling si parla anche di geotagging e story mapping e quindi rivolgo la domanda ad Alessandro. In che cosa consistono e in che modo possiamo far dialogare geolocalizzazione e didattica in classe? Allora, per risponderti parto dalla domanda che a cui il professore Roncagli ha risposto prima, cioè all'esigenza di educazione mediale. Se noi per educazione mediale intendiamo come la video education come i contributi del professore Roncaglia, di Buckingham, di Gianna Cappello in Italia, di Rigoltella ci offrono come prospettiva, cioè un'educazione che sia l'ubicazione ai media e un'educazione con i media. Ecco, lo story mapping è una forma di narrazione digitale, di digital storytelling che integra entrambe le prospettive. Cioè io educo a guardare lo spazio entro cui il mio studente, la mia classe, il mio percorso didattico si trova, che sia il luogo in cui si sta svolgendo un viaggio di istruzione, piuttosto che i monumenti alla mia città o la zona, un parco naturale. Quindi l'ambiente fisicamente e strutturalmente è presente a me stesso e al mio gruppo di studenti. E contemporaneamente, mentre li educo a guardare la realtà, con i di digitale li educo a raccontare quella realtà e quindi a geolocalizzare i luoghi in cui si trovano, sfruttando gli strumenti della geolocalizzazione, il GPS, i sistemi GIS, i sistemi di informazione geografica ci offrono, cioè la stratificazione di informazioni su un tag, su un'etichetta posta su una mappa. E se questo poi non avviene esclusivamente su piattaforma digitale, ma attraverso strumenti di realtà aumentata, e sono tante ormai le piattaforme che ci permettono di raccontare il territorio, geolocalizzandolo e contemporaneamente lavorando con le informazioni della realtà aumentata, offriamo veramente la possibilità di affrontare la complessità, la complessità in maniera attiva, la complessità del luogo in cui mi trovo è fatta di osservazione del luogo, ma anche di informazioni che riesco a raccogliere, quindi le foto, i video, la registrazione audio della mia voce che racconta quel territorio, il testo che devo produrre, l'integrazione di questi elementi affinché la narrazione sia in prospettiva documentaristica, piuttosto che in prospettiva proprio narrativa tradizionale, sia complessa appunto, non sia una narrazione esclusivamente lineare, ma venga arricchito entrambe le prospettive. Poi sulla geolocalizzazione le piattaforme utilizzabili nella didattica sono tantissime e offrono oltre che uno spunto di approfondimento dello studio della geografia, della cartografia, ma offrono lo spunto per lo sviluppo delle competenze linguistiche, per le competenze narrative bene e proprie, per lo sviluppo di queste competenze digitali che non siano soltanto un'alfabetizzazione strumentale, ma che siano proprio la consapevolezza, ecco, dalla ingenuità digitale di quei 4-5 strumenti che i ragazzi utilizzano sempre in maniera povera, a una consapevolezza digitale di quando e di quanto sia importante utilizzare un determinato strumento, non vietare l'utilizzo dello smartphone ai miei alunni, perché dal divieto non nasce mai l'educazione, dal divieto nasce sempre una costruzione, una limitazione. L'educazione significa coinvolgerli, coinvolgere gli insegnanti prima e poi le scuole e gli studenti in un dialogo in cui siano chiari i riferimenti delle regole dentro cui ci muoviamo, ma ci sia dato spazio alla propria personalità, al proprio io che si mette in gioco di fronte alla realtà. Ecco, lo story mapping mi sembra un'ottima una delle tante prospettive, abbiamo poco tempo quindi non possiamo parlare di altro, ma lo stop motion considero un'altra tecnologia, un altro strumento di narrazione molto interessante per integrare il digitale con la creatività. Grazie mille Alessandro, purtroppo abbiamo pochissimo tempo, però ho appunto un'ultima domanda per Marcello e Marcello ti chiedo di essere conciso, quali sono gli elementi fondamentali per progettare un escape room appunto efficace anche in ambito didattico e poi dal pubblico ci chiedono se possiamo fare qualche esempio di piattaforma che appunto possa essere utilizzata per i portfolio digitali su cui caricare appunto i badge. Ok, allora per quanto riguarda l'escape room nello specifico, chiaramente ci sono degli elementi fondamentali sui quali bisogna fare particolare attenzione. Prima questione che si va a coincidere perfettamente con l'argomento di cui parlava Alessandro prima è creare lo scenario, cioè creare l'ambientazione, quindi definire in termini narrativi, ovviamente stiamo parlando di escape rooms digitali, è digital escape rooms, e creare lo scenario, l'ambientazione che ovviamente deve risultare accattivante, interessante, anche significativa per gli studenti. Possiamo immaginare degli scenari reali oppure degli scenari fantastici, quindi l'aspetto della trama narrativa, dello storytelling, dell'escape room, che ovviamente si sviluppa all'interno di una narrazione, diventa un elemento strategico fondamentale. La seconda questione, il secondo aspetto importante è quello di identificare il modo in cui viene strutturata l'escape room. Beh, è chiaro, sto dando per scontato che tutti abbiamo un'idea di cosa significa escape room, cioè escape room significa scappare, evadere, quindi uscire da uno spazio, un contesto nel quale ci si trova catturati, ci si trova costretti e quindi bisogna, l'obiettivo finale è quello di liberarsi da questo spazio, cioè uscire fuori da questo spazio. Quindi la struttura, come ci ricorda anche Nicholson, che è un esperto appunto di questo tipo di esperienze di gioco e abbiamo strutture che vanno da una struttura aperta dove gli elementi del gioco, gli elementi del gioco per noi sono gli enigmi, le prove che gli studenti devono sostenere per poter appunto ottenere l'obiettivo finale, cioè scappare dalla stanza o da un percorso specifico. Questi enigmi si chiamano tecnicamente puzzle. Questi puzzle possono essere organizzati in maniera lineare, quindi io posso dare dell'indicazione agli studenti di poter risolvere i puzzle in maniera, come dire, possono essere risolti contemporaneamente. Oppure possono avere una struttura sequenziale, in questo caso i puzzle sono ordinati in maniera tale che bisogna prima risolvere un puzzle per passare al puzzle successivo, quindi c'è una propedeuticità, una sequenzialità dei momenti del gioco, oppure dei percorsi anche più complessi, tipo i percorsi che sono la combinazione tra percorsi di base, cioè aperti, e percorsi sequenziali. Qui possiamo ovviamente considerare strutture in maniera, come dire, molto personale, in base agli obiettivi che noi ci prefiggiamo. Altro elemento è quello di allineare i puzzle che possono essere sia cognitivi che fisici, quindi risolvere cose che hanno a che fare con processi, diciamo, quindi elaborazione di dati, di informazioni, o anche puzzle fisici, dove si interviene fisicamente in una prova specifica. Questi puzzle devono essere allineati al curriculum e agli obiettivi di apprendimento. Attenzione, il gioco ha significato, ha senso, nel momento in cui si va ovviamente a legare a quelli che sono i nostri, le nostre finalità, che sono finalità didattiche, di apprendimento, ovviamente. Altro elemento assolutamente fondamentale è calibrare bene il carico cognitivo dei puzzle, degli edigmi. Questa è una cosa fondamentale nel gioco. Noi dobbiamo fare in modo che il carico cognitivo, cioè il tipo di prove, non siano né troppo semplici, quindi in questo caso potrebbero annoiare, ovviamente, i ragazzi durante il gioco, ma non devono risultare neanche troppo complicate, perché in questo caso creerebbero frustrazione negli studenti e quindi l'abbandono del gioco non riuscendo a superare una determinata prova. Quindi questo è molto importante. Il consiglio che do io, che diciamo è quello preferibile, è usare una progressività, cioè creare degli enigmi che siano progressivamente più complessi, più difficili, creando anche un'alternanza tra momenti di tensione maggiore e momenti anche di rilassamento, in modo tale da dare agli studenti l'idea di un flusso laddove loro vivono un'esperienza di apprendimento ottimale. Ultima cosa, suggerimento che posso dare, attenzione, noi possiamo anche essere autori, game designer e game master, noi docenti all'interno dell'esperienza di un escape room, ma la cosa forse più interessante in assoluto sarebbe coinvolgere gli studenti in gruppi a realizzare loro un escape room da proporre ai loro compagni. Quindi l'idea della progettazione, della realizzazione di un escape room può diventare la creazione del gioco stesso, un'esperienza di apprendimento e di sviluppo di competenze veramente interessanti. Qualche strumento digitale così al volo con i quali creare l'escape room sicuramente è la suite di Google. Google Workspace, a cominciare da Google Sites come ambientazione passando a Google Moduli per creare gli enigmi, eccetera, eccetera. Genialy, un'altra piattaforma dinamica e animata molto interessante. E per ultimo ThingLink, sicuramente una piattaforma dove possiamo creare esperienze di escape room tridimensionali, quindi realtà virtuale. Grazie mille Marcello. Sono dispiaciutissimo che il tempo a disposizione sia già finito perché è davvero un argomento davvero tanto interessante. I vostri interventi sono stati molto ricchi e appunto sono arrivati tantissimi commenti da parte del pubblico che vi ringraziano. Io ruberei soltanto gli ultimi due minuti appunto chiedendo alla regia di mostrare in sovraimpressione le due slide perché appunto quelli che abbiamo affrontato oggi sono argomenti, quello appunto del digital storytelling e della gamification, che rientrano specificamente all'interno di due corsi di formazione su misura che potete approfondire e vedere insomma sul nostro sito www.formazonesumisura.it. Il primo corso è un corso dal titolo Raccontare per apprendere, digital storytelling a scuola ed è un percorso appunto di Gino Roncaia e Alessandro Greco per imparare a utilizzare il digital storytelling come strumento didattico che consente di allenare in classe competenze legate appunto alla narrazione, affiancando capacità creative e abilità tecnologiche e costituendo appunto un momento di apprendimento mirato all'alfabetizzazione digitale. Il corso è strutturato in questo modo, si tratta di un corso in autoapprendimento, può essere svolto in qualsiasi momento dell'anno dove volete, è costituito da tre moduli di apprendimento e contiene al suo interno un ricco kit di contenuti tra cui video lezioni, slide, dispense, esempi concreti proprio di applicabilità, approfondimenti per un totale di otto ore di certificazione. Il primo modulo intitolato innovare la didattica con il digital storytelling, il secondo modulo sulla geolocalizzazione e realtà aumentata, il terzo modulo a scuola con il meme telling. Il secondo corso invece che vi presentiamo è imparare giocando gamification ed escape room in classe, questo a cura di Gino Roncaia e Marcello Cappiero ed è un corso appunto per imparare a utilizzare il digitale come spazio utile per la realizzazione di narrazioni e percorsi interattivi e ludici, in particolare con un focus sull'escape room che appunto stimolano, come abbiamo visto durante questa diretta, l'applicazione della logica di gruppo, quindi la sequenza di enigmi da risolvere che è in grado per l'appunto di motivare l'impegno e la creatività degli alunni, nonché di migliorare il processo di inclusione e cooperazione tra pari. Questo corso come l'altro è un corso in autoapprendimento, prevede tre moduli appunto per un totale di otto ore di certificazione, anche qui video lezioni, slide, approfondimenti, esempi concreti e una tripartizione in moduli dove vediamo il primo intitolato l'impatto del gioco sull'apprendimento, il secondo meccaniche e dinamiche del gioco e il terzo modulo game based learning, progettare un escape room. Possiamo togliere le slide, ripeto appunto basta andare sul sito www.formazionesumisura.it per approfondire ulteriormente i programmi. A questo punto ringrazio appunto i nostri ospiti Gino Roncaia, Alessandro Greco e Marcello Caffiero per gli interventi appunto molto interessanti di questa sera. Questo ovviamente è l'ultimo incontro diciamo di dicembre prima della pausa natalizia e quindi vi auguriamo personalmente da da tutta formazione su misura. Buon Natale a voi e alle vostre famiglie e lascio la parola per i saluti finali ai nostri ospiti e a Beatrice appunto eh per la chiusura. Grazie a tutti. Prego Gino. Grazie. Grazie sì sì e eh moltissimi tanto innanzitutto visto che sono i saluti finali moltissimi auguri a tutte e a tutti perché eh andiamo verso diciamo una conquistata credo per tutti noi pausa eh in cui eh rilassarsi un po' e anche magari lavorare e riflettere su alcune tematiche eh su cui un po' più sfiziose su cui eh nella quotidianità del lavoro di di insegnamento poi più difficile lavorare. Quindi buone vacanze a tutti e a tutti e alla prossima occasione. Grazie anche da parte mia è stata una bellissima esperienza e soprattutto è un confronto utilissimo per la scuola. La scuola non deve dimenticare mai di confrontarsi e di riflettere gli insegnanti, i dirigenti scolastici su quali siano le strade da il mondo accademico, no? Su quali siano le strade da percorrere per per poter rendere protagonisti attivi i nostri studenti. Quindi tutte le volte che ci confrontiamo su questi temi penso che sia un passo avanti verso la demolizione degli steccati. Ecco e quindi questo è secondo me l'aspetto più interessante. Grazie ancora e tanti auguri a tutti. Anch'io auguro buone feste a tutti, un buon nuovo anno duemilaventitré e chiudo riprendendo quello che aveva detto il professore Roncaglia, cioè di riflessione ricordiamo sempre che la capacità riflessiva è capacità trasformativa. Quindi se riflettiamo sulle cose riusciamo a trasformare e a cambiare. Grazie. Grazie ancora ai nostri ospiti, le persone che sono rimaste collegate con noi. A me è molto piaciuta questa metafora del docente che non deve limitarsi a pattinare ma andare in profondità. Ecco la didattica digitale ci permette a noi docenti, formatori, educatori di metterci di nuovo in gioco per un obiettivo molto importante, cioè educare la complessità. Non è possibile parlare ancora oggi di separazione di quello che è analogico e digitale. Il digitale può diventare un ottimo strumento anche inclusivo, come è emerso anche dai vostri interventi. Ancora buone feste e grazie a tutti e a tutti. A presto. A presto. A presto. A presto.